Solo uno sguardo, trama ed anticipazioni della nuova fiction Mediaset. Non manca molto all'inizio della stagione autunnale e, di conseguenza, Mediaset proporrà tante nuove fiction. Tutti stanno aspettando Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Kanyaman, ma saranno tanti altri prodotti che andranno in onda, in prima serata su Canale 5 durante i primi mesi dell'autunno. Tra questi, c'è anche la serie francese Solo uno sguardo, che racconterà le vicende di Eva Boffils. Nel corso dei prossimi mesi, Canale 5 trasmetterà Solo uno sguardo, una fiction andata in onda in Francia, che promette di appassionare anche il pubblico italiano. La protagonista assoluta di Solo uno sguardo è Eva Boffils. La donna è una guardia forestale, conduce una vita normale ed è felice al fianco di suo marito. I due hanno avuto due figli, Salome e Max, e le cose in famiglia vanno per il verso giusto. Tutto procede senza ostacoli finché un giorno Eva trova una fotografia misteriosa, nella quale riconosce suo marito Bastianda giovane. Dopo avergli mostrato la foto, però, l'uomo nega di essere davvero stato ritratto nell'immagine, facendo venire qualche dubbio ad Eva. Con il passare del tempo, la donna inizia a dimenticarsi della vicenda, quando un giorno Bastian esce per accompagnare i due figli al concerto del loro cantante preferito. Proprio in quel frangente, però, l'uomo fa perdere le sue tracce e scompare nel nulla. Eva è disperata e, dopo aver sporto regolarmente denuncia, capisce di doversi esporre in prima persona per ritrovare suo marito. La Bofils è pronta a tutto per scoprire la verità ma soprattutto per avere il suo amato Bastian con sé, così mette a repentaglio la sua stessa sicurezza e, senza volerlo, anche quella dei suoi figli. Eva si rende conto di dover partire anche da quella foto, che le fece venire dei dubbi e di dover analizzare ogni singolo dettaglio insolito, per avere qualche possibilità di ritrovare suo marito. Dopo la fine della strada del silenzio, Mediaset ha deciso di non proporre nuove fiction, almeno per tutto il periodo estivo. Già da settembre, però, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero cominciare ad andare in onda le novità del palinsesto. Sembra proprio che solo uno sguardo sarà una delle prime fiction a partire in autunno, di conseguenza, anche se la programmazione potrebbe cambiare, in qualsiasi momento. Sembra proprio che la fiction con tinte di giallo sia destinata ad andare in onda, già durante il mese di settembre. Per quanto riguarda il resto, una curiosità importante da conoscere sulla fiction è che viene considerata una miniserie, quindi è breve e non dovrebbe durare per molte prime serate. È stata trasmessa per la prima volta in Francia nel 2017, su TF1, ed è stata apprezzata molto. E è tratta dai romanzi di Arlan Coben, che sono usciti nel 2004. In origine, la serie è composta da sei episodi e si chiama Juste un rigar. Su Canale 5, in tutta probabilità, la fiction verrà suddivisa in maniera differente, con due episodi per ogni sera, per un totale di tre prime serate. Questo aumenta le possibilità che solo uno sguardo possa andare in onda a settembre, e durare per tutto il mese, cosa che è già stata fatta con altre fiction negli anni precedenti. Il cast è composto da attori noti in Francia, come Virginie Ledoyen, conosciuta anche a livello internazionale, avendo recitato con Leonardo DiCaprio in The Beach. L'attrice prese parte anche ai Miserabili con Gerard Depardieu. Non resta quindi che attendere ancora un po' per sapere l'esatta data della messa in onda. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante la trama di questa fiction, e crede che la seguirete quando inizierà su Canale 5? A voi i commenti! Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.